Carissimi Massimo e Clarissa, diventate marito e moglie, ma restate fidanzati, cioè ditevi spesso con parole e gesti che vi amate. Non abituatevi al vostro corpo, alla vostra anima, il corpo non sia mai per voi una cosa, un oggetto, ma sia sempre un alfabeto, per dirvi ogni giorno in maniera nuova e creativa il vostro amore. Massimo e Clarissa, donatevi e donare il vostro amore a piene mani. Non fermatevi e non stancatevi mai nel amare. L'amore è l'unico tesoro che si moltiplica per divisione, è l'unico dono che aumenta quando più ne sottrai. È l'unica impresa nella quale più si spende, più si guadagna. L'amore fa miracoli e ciascuno di voi lo sa. Amare e donare, questo è il secreto della felicità. Questa è la terra promessa, questo sia il vostro cammino. è l'unico donna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sogni l'uno dell'altro.